Buongiorno buongiorno ci siamo ancora una volta insieme alle 6 e 30 del mattino di questo ultimo giorno di luglio siamo arrivati in fondo insomma siamo arrivati al 31 luglio 2020 un buongiorno a tutte le persone che come di consueto ci seguono questa è la rassegna stampa del nord est ma non solo anche di alcuni fatti che interessano proprio l'intera nazione tutte le mattine alle ore 6 e 30 live in diretta allora la prima cosa che vi chiedo carissimi amici siete già collegati con noi e di darmi subito un rimando sul fatto che tutto si possa essere tutto che possa andare funzionando ditemi se mi sentite se mi vedete così possiamo confermare la correttezza del flusso e possiamo andare avanti con la nostra rassegna stampa come di consueto tra l'altro io chiedo subito anche i vostri saluti per quelli che già conoscono sono gli affezionati della rassegna stampa lo sanno e giornalmente mi salutano per tutti gli altri vi ricordo che mi fa veramente un sacco piacere leggere i vostri commenti in diretta salutarmi proprio con nome e cognome ditemi anche dove vi trovate fatemi sapere facciamo un giro anche di temperature ragazzi cosa ne dite mi fate sapere quanti gradi ci sono alle 6 e 30 del mattino di questo 31 luglio fatemi sapere perché qualcuno diceva che erano già 26 gradi 27 25 insomma poi in base chiaramente alle località ma veramente preoccupante perché dovete sapere che tra oggi e la giornata di domani tra il 31 luglio e 1 agosto ci sarà il picco di questa ondata di calore che andrà un pochino un pochino calando verso lunedì quando avremo dei temporali a nord est e oggi l'argomento del giorno adesso vi saluto abbiate pazienza quanti siete abbiamo una nuova ordinanza siamo arrivati al 31 luglio insomma qui le ordinanze non non mancano siamo pronti oggi per la firma della nuova ordinanza appunto che andremo a spiegare sicuramente in diretta cercheremo di fare un articolo metteremo a disposizione il pdf come di consueto facciamo ormai da febbraio ma qualche anticipazione andiamo a darla subito oggi in arrivo il 31 luglio nuova ordinanza del presidente della regione Friuli Venezia Giulia Fedriga tornano i concerti di spettacoli dal vivo senza alcun limite di spettatori ok alle partite con pubblico tutto da confermare chiaramente questa è una bozza ma sicuramente queste sono le indicazioni che abbiamo in questo momento di cui ora andiamo subito ad approfondire buongiorno Maurizio Zuccato buongiorno Olda buongiorno Fede De Cecco che è già presente mamma mia che che sveglia nonostante tu sia in ferie svegliosi a 6.30 del mattino sei proprio brava brava bravissima Nicolas Zanon buongiorno agli amici di Milano buongiorno a Elena Laura Fanotto ancora da Lignano viva viva Lignano quanti siete Fede si sente bene ti si vede bene grazie Fede anche per l'appunto tecnico che mi mandi subito in diretta Elena Bornanci buongiorno Nicolas dall'8 agosto finalmente in ferie carissimo Roberto si torna in Veneto e allora Nicolas ti aspettiamo insomma se sei vicino a noi in Veneto siamo vicinissimi ok dall'8 agosto buone ferie Maria buongiorno Roberto ora tanta afra e caldo a Palmanova beh il caldo insomma la sta facendo da padrone dobbiamo supportare ancora qualche giorno dicevo tra oggi e domani ondata di calore al massimo che ci sarà questo vero e proprio picco ma già nella giornata di domani qualche temporale in montagna un po' di instabilità domenica e lunedì pare insomma secondo l'ARPA e il meteo le previsioni sono quelle di un po' di temporali sparsi vedremo vedremo se risfrescherà Maria impossibile dormire questa notte dall'AFA Maria come fate a dormire io mi chiedo senza l'aria condizionata io ormai l'aria condizionata ce l'ho 24 ore si 24 è impossibile stare senza Alida Canterut buongiorno da Gorizia ora andremo a parlare purtroppo a Gorizia andiamo ad approfondire chiaramente il funerale di ieri vediamo come è andata per l'ultimo saluto al bimbo Stefano quello che è caduto nel pozzo adesso andiamo a vedere purtroppo Robi buongiorno Roberto ad Aviano ci sono 26 gradi con casi di legionella vicino casa si Robi dopo ne parliamo di questi casi di legionella in provincia di Pordenone e Zuccato fra un'ora si parte per weekend lungo Riva del Garda buone vacanze carissimo Maurizio che va a Riva del Garda allora buone vacanze anche a te buon ok andiamo sono le 6.34 qualche saluto l'ho fatto voi continuate pure a scrivermi ora vado fullscreen e vado a lanciare l'argomento del giorno l'argomento del giorno che non sarà l'unica cosa di cui parleremo perché abbiamo una situazione molto difficile a Treviso a Treviso 133 migranti positivi al Covid-19 rimanete lì perché ne parliamo in una ex caserma la situazione è veramente allarmante però prima alle cose belle prima pensiamo alle nuove aperture pensiamo alle novità che arrivano anche in Friuli Venezia Giulia infatti arriva una nuova ordinanza del presidente della regione Friuli Venezia Giulia Fedriga che può vedere diciamo è scritto già dal pomeriggio di oggi delle novità che riguarderanno allora concerti, spettacoli dal vivo senza limite di spettatori ok alle partite con il pubblico oggi ci sarà la firma di Fedriga basterà infatti una sedia vuota ogni due oppure un metro di distanza di alibere anche i match alle partite non professionisti con la presenza dei tifosi sulle tribune questa è una buona notizia per quanti sono del settore sono in vera e propria sofferenza da tempo che non riescono quindi a procedere con le loro cose quindi riassumendo cancellazione dei vincoli le 200 persone all'interno, 1000 all'esterno spettacoli dal vivo, teatri e arene il ritorno del pubblico nelle manifestazioni sportive o dilettantistiche oltre al fatto che si sta lavorando per aprire anche al pubblico gli stadi quindi anche le persone come un po' noi sapevamo e come li avevamo conosciuti ok? vi ricordo ancora una volta questa è la notizia del giorno nell'ordinanza insomma non dovrebbero esserci particolari novità rispetto a quelle che io vi sto dicendo in questo momento non ci saranno nuove restrizioni almeno pare così poi oggi nel pomeriggio alle 18 pubblicheremo l'ordinanza nessun problema quindi anche per gli sport di contatto di squadra come il calcetto, il basket quanti mi stanno chiedendo ma pure il pugilato tanto per capirci e anche tutte le attività di formazione poi per i lavoratori, per i dipendenti del settore pubblico i dipendenti del settore privato di qualsiasi natura ok anche i quotidiani e le riviste a favore dell'utenza sono ammessi giochi di carte a condizione che i giocatori provvedano a sanificazione delle mani così come li avevamo conosciuti verranno riconfermati sarà consentito anche lo svolgimento delle processioni religiose delle celebrazioni e delle manifestazioni tradizionali purché sempre sia assicurato con ogni mezzo il divieto di assembramento che rimarrà nella nuova ordinanza come ad esempio l'obbligo della distanza di un metro anche l'uso della mascherina anche queste verranno ovviamente confermato sapete che chiaramente questo ancora non potrà essere tolto quindi a meno che salvo decisioni dell'ultimo momento vediamo che l'idea è questa quella che vi ho appena comunicato della nuova ordinanza quindi spettacoli di fatto liberi che sono proprio tra le principali novità della penultima ordinanza firmata dal governatore parliamo di quella relativa a giugno dove c'era stato il semaforo verde proprio per cinema, teatri pur ovviamente dietro rigide prescrizioni per gli spettacoli al chiuso ad esempio era stato fissato questo limite che dovrebbe essere tolto delle 200 persone che saliva 1000 se era tutto la manifestazione all'aperto i gestori hanno dovuto inoltre riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato il mantenimento poi di almeno il solito metro di separazione tra le persone tutto questo ora potrebbe essere tolto quindi andiamo a venere nel pomeriggio quindi seguitemi perché avremo una nuova ordinanza di Federica e io ora vi ho appena anticipato quali saranno appunto le novità buongiorno Patrizia da Pradamano buongiorno Silvia Bortolotti buongiorno Olda ciao alla tisana fa molto caldo la temperatura sarà 23 fino a 34 gradi Federica buongiorno Roberto da Pozzuolo del Friuli e Pozzuolo svegliati con 25.7 gradi mentre Francesco Zotterelmi dice che a San Stino di Livenza abbiamo 25 gradi con foschia mamma mia che temperatura è Daniela ancora buongiorno Roberto si muore dal caldo eh ragazzi coraggio dai o come dicevo insomma tra oggi e domani il picco del gran caldo dell'ondato di calore e poi andremo lunedì con qualche temporale per cui dai ci consoleremo probabilmente inizio settimana si partirà con un attimo con qualche grado con la temperatura un po' inferiore rispetto a quella che oggi mi state voi stessi eh comunicando allora come apre oggi il giornale in edicola il messaggero oggi apre proprio con la novità che sta per arrivare nel pomeriggio odierno della nuova ordinanza del presidente della regione eh Friuli che vedrà insomma un nuovo provvedimento dove comunque bisognerà evitare assembramenti dove comunque bisognerà tenere l'obbligo di distanza delle persone di un metro ancora con questa benedetta mascherina ma poi soprattutto ci saranno nuove aperture da confermare concerti e show dal vivo il pubblico infatti potrà tornare anche agli spettacoli così come per quelle manifestazioni sportive la nuova ordinanza avrà validità da oggi e scusatemi da domani fino al 31 agosto si sta valutando anche di riaprire addirittura gli stadi ai tifosi a noi ormai sembra una cosa assurda ma insomma è una cosa buona per quanto riguarda tutti gli appassionati come vi dicevo torno un attimo serio serioso perché purtroppo ieri c'è stato ahimè l'addio a Stefano tra le lacrime nel campo di calcio ora andremo a vedere a pagina 16 come è andata il funerale del piccolo Stefano Borges a Gorizia andremo a parlare veramente tra pochissimo parleremo ancora una volta del sindaco di Pradamano che si trova ancora agli arresti dei pagamenti fatti eseguiti in nero anche per i lavori ad esempio dell'idraulico insomma un sacco di cose che ora andiamo ad approfondire e poi ancora la vice che è sotto inchiesta la vice sindaca ma guiderà comunque il municipio fino alle elezioni questo è quello che è stato deciso bene partiamo partiamo allora con la fase quello che si è deciso in regione ieri in Friuli rimanete lì perché poi parliamo in Veneto di quello che sta succedendo in Veneto veramente allarmante quello che è accaduto alla ex caserma a Treviso dove ci sono stati riscontrati positivi 133 migranti ora andremo a parlarne ancora andiamo però a chiudere con il Friuli no ad altri lavoratori stranieri nella regione prima utilizziamo i nostri disoccupati questo è il provvedimento della giunta Fedriga che quindi cosa va a fare? va a rifiutare le quote aggiuntive di mano d'opera da impiegare nell'edilizia nel turismo e dei trasporti questo è quello che è stato deciso abbiamo aperto oggi come la nostra rassegna stampa con la nuova ordinanza di Fedriga buongiorno a chi si è appena collegato da pochissimo vi ricordo ancora con certi spettacoli dal vivo senza limite di spettatori ok alle partite con pubblico rimarranno però tutte le varie misure per anti-coronavirus come il distanziamento o divieto di assembramenti utilizzo della mascherina andiamo ci sono 13 nuovi contagiati ieri abbiamo riportato i numeri per cui qualcuno magari si è anche allarmato perché dice caspita ma qua Roberto tutti i giorni i contagi invece di scendere eravamo a contagi zero continuano a salire è così però io vi devo anche sottolineare rassicurare dicendo se può essere una rassicurazione in qualche modo che i contagi gran parte di questi numeri che noi andiamo a pubblicare quotidianamente verso le 17 su nordest24.it riguardano persone straniere quindi si tratta di casi di importazione importazione vuol dire che arrivano da fuori come ad esempio dall'Ucraina dalla Romania dalla Moldavia rintracciata ad esempio anche un'altra nuova decina di migranti questa volta nella giornata di ieri 20 e 30 luglio tra Faedis e Povoletto quindi stiamo parlando della provincia di Udine quindi Friuli che ora deve fare i conti con leggero aumento giornaliero dei contagi ma vi ho spiegato nessun allarmismo perché in questo caso si tratta di gran parte di contagi che arrivano da paesi come la Moldavia la Romania e l'Ucraina ancora abbiamo a Lignano un residente in Austria positivo al Covid che è stato accompagnato alla frontiera dai vigili la persona insomma aveva manifestato dei sintomi è stata sottoposta al test al screening alla diagnosi è risultato positivo quindi al test ed è stato subito grazie alle autorità ai vigili che ci sono appunto e sono stati quindi coloro in mezzo ecco che li hanno accompagnati al confine si tratta di un residente in Austria che era a Lignano positivo al Covid-19 vedete che la preoccupazione quindi è legata dalle persone che arrivano da fuori e che potrebbero quindi contagiare le persone già presenti ma poco fa ho invitato gli amici anche del Veneto a non andare via a rimanere lì perché ora ci trasferiremo tra poco nel gazzettino nel gazzettino andremo ad approfondire la notizia riguarda a un maxi maxi focolaio che si registra nell'ex caserma appunto nella città di Treviso dove sono stati riscontrati positivi ben 133 migranti al coronavirus sono veramente tanti i migranti risultati positivi al test lo ha rivelato proprio il risultato dei tamponi che sono stati effettuati l'altro giorno tra i richiedenti asilo che sono giunti nella città e tutti arrivavano dalla rotta balcanica quindi si descrive un maxi focolaio nella struttura che ospita migranti ed è scoppiato dopo aver accertato la presenza che tre persone erano positive sottoposti tutti il 300 al tampone di questi 300 133 sono risultati positivi ma anche si è stata fatta è stata presa dall'autorità sanitaria locale dal sindaco la decisione di mettere in quarantena anche i negativi questo però dicevo riguarda Treviso quindi lo approfondiremo tra poco nel gazzettino quindi abbiate pazienza ora vado a chiudere un po' con quelli che sono le notizie principali i fatti che sono accaduti in Friuli nella giornata di ieri torniamo alla vicenda di Premariacco ieri abbiamo aperto la nostra rassegna stampa chi se lo ricorda con gli appalti truccati appalti illeciti chiamate come volete fatto sta che davvero c'è stata una vera e propria bufera sul comune di Pradamano in provincia di Udine dove proprio in quell'ufficio temevano il primo cittadino il sindaco se gli dico di no mi trasferisce vedete che quindi c'era una politica veramente un brutto stile un modo di fare davvero preoccupante nonché pericoloso la responsabile dell'era tecnica non voleva fare la fine riservata al suo predecessore da Roberto Trentin ieri abbiamo descritto come una solo dipendente si era aveva osato opporsi a quelle che erano un po' il modus operandi della giunta per quanto riguarda queste illegalità queste turbative che venivano fatte all'interno dell'ufficio e una persona che si era opposta a queste procedure era stata allontanata vedete che in come riporta oggi il quotidiano in edicola insomma dice li teneva in pugno sapevano cosa era successo il funzionario che aveva osato mettersi di traverso al desiderato del sindaco e cercavano quindi di assecondarne ogni richiesta quindi praticamente c'era una sorta di timore nei confronti del sindaco ancora alcuni stralci dei colloqui telefonici intercettati vengono riportati oggi la responsabile dell'ufficio tecnico Veronica Delmestre si lamenta ad esempio in una intercettazione con una collega del fatto che il sindaco Trentin in presenza del segretario comunale le dica di non fare le gare secondo le regole era accaduto il 30 agosto del 2019 questa è una telefonata in cui si registra ad esempio una delle tante conversazioni che la guerra di finanza ci ha riportato dove veramente succedevano cose allucinanti incredibili il paese infatti è sotto shock ed è incredulo rispetto a tutta questa vicenda che ha scatenato un vero e proprio terremoto in città la vice ancora è sotto inchiesta ma la notizia di oggi è che guiderà continuerà a condurre il municipio Zuccolo sostituirà infatti il primo cittadino nell'area amministrazione fino al voto l'assessore Durei dice assurdo chi ha lavorato venga considerato un criminale quindi in certo modo vanno a cercare di difendersi quindi vedete insomma oggi due grandi pagine dedicate completamente all'affare di Pradamano pagina 14 pagina 15 dove potrete sicuramente andare ad approfondire la questione rispetto a quello che vi ho riportato ma io ora velocemente oltre a salutarvi devo passare a Gorizia con questi scatti cosa state vedendo in questo momento e saluto gli amici anche sul digitale terrestre che ci seguono quelle che state guardando sono le tristi tristi immagini dove le persone e gli uomini portano alle spalle all'interno del campo sportivo dell'Azzurra a Stracis il corpo la bara con il corpo appunto del Stefano Borges il ragazzo appena 13 anni che ha trovato il fine vita all'interno di un pozzo durante il centro estivo sono infatti stati celebrati nella giornata di ieri i funerali di Borges Stefano in alto abbiamo l'immagine della folla che ha partecipato tante le persone con il giusto distanziamento anche no alle esequie che sono state celebrate dall'arcivescovo Re Daelli eccolo qui insomma anche lui ritratto nello scatto tante le persone presenti ma soprattutto tante le lacrime tanta la commozione nell'ultimo applauso che è arrivato per il bimbo sono state oltre mille le persone per l'addio al bambino caduto nel pozzo come già spiegato il sacerdote ha detto ci saranno tante verità intorno alla sua morte ancora qualche scatto eccolo qui la barra insomma che viene trasportata il dolore composto dei genitori 120 i palloncini bianchi che sono volati verso nord spinti dal vento accompagnati da un applauso che possiamo veramente definirlo straziante c'era anche ieri un caldo torrido che ha accompagnato questo eseque e il contapersone all'ingresso poi mascherine gel disinfettanti c'era un po' di tutto ombrelli aperti per riparsi dai raggi del sole alla fine è andata proprio così il dolore con tutta la città che è stata messa ieri vestita a lutto come disposto dal primo cittadino dal sindaco Rodolfo Ziberna con il dolore composto dei genitori davanti alla barra coperta dai fiori come la vediamo proprio nell'immagine mamma mia andiamo avanti cambiamo pagina veramente cose molto tristi stiamo parlando ora si parla di scuola a Udine si parla di istruzione i dirigenti al comune servono spazi per far ripartire le lezioni a scuola servono spazi perché sappiamo che le indicazioni dal parte del governo sono quelle delle misure del distanziamento ma in tanti tanti casi come ad esempio anche nell'area udinese mancano veramente questi spazi dove mettere posizionare sistemare i giovani anche aree mancano per organizzare ingressi e uscite pure i nuovi banchi l'assessore dice che è un problema che riguarda proprio alcuni istituti ragazzi siete con me vediamo se è tutto ok se ho alcuni messaggi proseguiamo si eccoli qua 6 e 49 del mattino siamo live siamo in diretta con la rassegna stampa ciao Rita buongiorno Roberto ciao Rita carissima finalmente ti vedo vedo il tuo messaggio mi fa molto piacere che mi segui eccola lì Enrico Barbera buongiorno da Corno di Rosazzo abbiamo Mary buongiorno da Pordenone Patrizia Nogarotto Sandona di Piave collegata con noi così come fa anche nostro caro Omar fanciullo che mi dà il buon dì e poi Ancoma tanti tanti amici come Maria che mi dice un grande abbraccio alla famiglia del ragazzo ci uniamo a questo abbraccio per la famiglia di Stefano Stefano Borges di cui ieri è stato dato l'ultimo saluto ci uniamo veramente al dolore degli amici dei conoscenti anche se magari potrebbe sembrare nulla ma sicuramente anche noi abbiamo sofferto per queste notizie Alfonso mi dice buongiorno da Lignano Pineta e mi saluta da Cesarolo Luisa Rossetti ciao Luisa benvenuta nella nostra rassegna stampa andiamo veloci ragazzi che il tempo passa il piano del Copernico Metaclasse starà in aula gli altri saranno collegati da casa guardate come si stanno organizzando alcune scuole non so nella vostra ma andremo un po' magari a fare una diretta speciale parlando di scuola di come ci si stanno muovendo tra Friuli e Veneto alcune si stanno organizzando proprio cercando di fare un 50% in classe qualcuno invece più grandi da casa in videoconferenza ancora il professore dello Zanon bocciano la didattica a distanza invece qui c'è un cambio dicono no assolutamente no è poco efficace è uno strumento che ha aumentato i tempi di lavoro quindi anche qua ci si divide qualcuno è favorevole qualcuno invece non è favorevole in questo caso alla didattica a distanza abbiamo avuto ieri un nuovo caso di coronavirus in Viale Venezia al Policlinico Casa Città di Udine si tratta di un paziente di 80 anni dopo il triage è stato sottoposto a un tampone nel frattempo è stata disposta tutta la sanificazione all'intera struttura si tratta quindi di un nuovo caso di positività al Covid-19 riscontrato al Policlinico di Udine dove il Policlinico lo ripeto ancora una volta si trova in Viale Venezia si chiama Città di Udine un 80enne Udinese da tempo in trattamento in dialisi si recava proprio questa nella sede del Policlinico in Viale Venezia è risultato positivo al coronavirus è stato scoperto l'altro pomeriggio dopo essersi recato appunto nella struttura sanitaria per sottoporsi a un ciclo di dialisi già programmato cosa è successo? in sintesi all'ingresso della casa di cura è stato sottoposto al triage perché comunque vanno a riscontrare se ci sono eventuali sintomi con anche tra l'altro la temperatura corporea e aveva una alterazione della temperatura quindi subito l'ingresso è sorto il dubbio dicendo che questa persona stava facendo ingresso con la febbre in presenza di febbre l'ottantenne è stato immediatamente sottoposto al tampone del quale è risultato positivo lui è sintomatico in questo caso quindi ha dei sintomi che sta manifestando però è sotto stretto monitoraggio immediata è scattata la disinfezione e quindi la sanificazione dell'intera struttura del policlinico di Viale Venezia che qui vediamo per gli amici della televisione possono vedere anche nella immagine in questo momento segue comunque regolarmente l'uomo la dialisi ciclo di dialisi il quale è sottoposto ma in questo momento è ricoverato in cura per questo nuovo caso di coronavirus nell'ottantenne appunto in Viale Venezia andiamo ancora abbiamo il lutto si registra il lutto Alessandro Misderis l'anima di R.C. delle lotte del 68 politica udinese in lutto per la scomparsa appunto dell'uomo storico esponente di rifondazione comunista come viene riportato oggi qui anche con una immagine dell'uomo ancora andiamo parliamo ancora una volta purtroppo di divani abbandonati di maxi abbandono di rifiuti proprio nella cittadina udinese come facciamo ormai da tempo abbandoni in strada divani reti peluche guardate quante cose insomma le persone vanno a sversare proprio sui bordi delle strade e quindi vanno a fare questi comportamenti illogici quando invece abbiamo a disposizione proprio anche delle isole ecologiche apposta dove andare a sversare i rifiuti poi anche tra l'altro gratuitamente assurdo allora ieri abbiamo lanciato questa notizia che ci ha inviato la polizia la questura di Udine ieri ci hanno fatto sapere come una macchina un'automobile correva 208 km orari in un limite di 80 km quindi stava sforando veramente di tantissimo la soglia insomma di quella che era il limite imposto in quel momento la rilevazione è stata fatta mediante un'automobile della polizia che all'interno aveva un autovelox ora non ricordo il nome ah sì eccolo qua l'apparecchiatura si chiama Provida è un dispositivo installato proprio sull'auto dei poliziotti che misura la velocità di un altro veicolo che si trova in movimento beh bene durante la notte questa auto è sfrecciata letteralmente accanto all'auto della polizia degli uomini della questura di Udine a una velocità di 208 km all'ora in un tratto di cantiere per la terza corsia in autostrada dove il limite imposto era di 80 quindi vedete che in questo caso ha subito una sanzione di 1130 euro di multa oltre al fatto oltre a questa multa la patente sospesa da 6 ai 12 mesi quindi via la patente per quasi un anno ancora una importante operazione sempre grazie agli uomini della questura di Udine che ringraziamo anche per queste comunicazioni che ci inviano giornalmente mediante dei controlli classici controlli consueti che vengono fatti proprio in Borgostazione nella zona della stazione ferroviaria della città di Udine insomma hanno pedinato hanno seguito un furgone sospetto un furgone vito che è andato poi l'hanno pedinato fino praticamente a Gorizia il confine dove proprio vengono rintracciati e dove i passer abbandonano i migranti beh lì all'interno che cosa hanno scoperto hanno scoperto un traffico illecito di tabacco illegale 4 persone sono state denunciate si tratta di 2 afghani e di 2 pakistani ma l'articolo completo se volete approfondire come sono riusciti a rintracciarli insomma come è stato anche il fiuto un po' degli agenti che hanno portato all'arresto alla denuncia perché non sono stati arrestati sono stati denunciati queste 4 persone lo potete trovare l'articolo intero il comunicato stampa su nordest24.it ancora ci sono iniziative cambiamo argomento buon cibo musica cultura la ricetta arriva in via Aquileia per Udine sotto le stelle la manifestazione si allarga e quindi ora c'è il programma anche per la zona appunto che riguarda via Aquileia che avrà anche loro avranno insomma le loro manifestazioni i loro eventi nel programma tutti i venerdì nella zona appunto udinese andiamo con altre notizie importanti vediamo se riusciamo ad andare un pochino più avanti saltando le cose di minor importanza vediamo misure anti-covid andiamo nel medio Friuli partiamo anche da Codroipo misura anti-covid poco personale gli orari sono stati ridotti chiusura per i musei l'assessore Cividini dice la sanificazione costa troppo lo stop al progetto anche della foresteria San Martino abbiamo Bertiolo premi a chi ha aiutato la protezione civile quindi con un momento dell'incontro con la protezione civile a Bertiolo a Mortegliano buona musica in arrivo con le sere d'estate a Campoformido invece di si parla di scarpa del nuovo presidente dall'Aeroclub Friulano quindi si rinnova i vertici quindi anche di questa nuova associazione l'Aeroclub Friulano come viene riportato oggi dal giornale a San Giovanni al Natisone ci spostiamo un pochino più a est basta con i rumori cattivi odori le proteste arrivano fino a Medeuzza verso una raccolta firme contro un'azienda che fa l'asfalto la mediazione del sindaco che dice ho incontrato la priorità a Cono di Rosazzo ieri sera abbiamo pubblicato questo insomma intervento che ci hanno fatto sapere i vigili del fuoco del comando di via Popone di Udine una legnaia che va in fiamme ma la casa collegata che è stata dichiarata inagibile dove una mamma e figlio la mamma del 1940 figlio del 65 hanno trovato una soluzione alternativa per dormire durante la notte in quanto la casa è stata appunto dichiarata dei pompieri inagibile non potevano rimanerne all'interno trovate l'articolo e le foto su Nordest 24 a San Giovanni forzano la porta di casa sono spariti gioiele contanti non passa giorno che non vi raccontiamo cronaca e furti hanno forzato in questo caso specifico la porta d'ingresso hanno avuto quindi gioco facile sono entrate all'interno dell'abitazione hanno portato via monili ed oro per un valore stimato in 9.000 euro oltre a 2.500 euro in contanti questo è il bottino che appunto sono riusciti a prelevare a San Giovanni al Natisone nella bassa a San Giorgini d'Ogaro si parla di un villaggio degli esoli ospitò 32 famiglie ora festeggia 70 anni di storia e ricordi domenica mattina si svolgerà quindi la cerimonia a Villa Dora oggi ci vivono solo due persone di quelle arrivate nel 1950 ancora bassa e frilana a Cervignano del Friuli emporio della solidarietà per le famiglie bisognose sarà pronto entro agosto grazie mille Lucillo per le stelle adesso vado a leggere i vostri commenti nel frattempo ti ringrazio perché mi è comparsa la notifica dell'invio delle tue stelle sei molto gentile ma io voglio chiudere un attimino con la Tisana perché alla Tisana c'è una notizia molto importante oggi si parla dell'emergenza mancano gli autisti al pronto soccorso questa è la denuncia almeno che oggi apprendiamo dal quotidiano e che arriva direttamente dai sindacati i sindacati dicono che così ora aumentano i rischi ancora la Cisal dicono dipendenti in servizio anche 24 ore e in regione parte l'organe del giorno quindi riassumendo all'ospedale di La Tisana autisti dell'ambulanza in servizio a volte anche per 15 ore continuative la denuncia dei sindacati rischiano di diventare 24 ore di lavoro nelle giornate di maggior emergenza come quelle che stiamo vivendo proprio in questo momento a denunciare la situazione del pronto soccorso di La Tisana appunto è la Cisal FPC Sanità per voce della segretaria regionale palmisciano siamo molto preoccupati no? ha dichiarato nella giornata di ieri è esordito così perché l'organico degli autisti è insufficiente per assolvere il mandato aziendale in sicurezza con il conseguente rischio dell'aumento per i pazienti operati appunto a causa di turni svolti dagli autisti racconta addirittura di 12 ore casi di autisti che lavorano per 12 ore di seguito che potrebbero diventare addirittura 24 no dice è assolutamente inconcepibile ma noi vi racconteremo gli sviluppi di questa vicenda a La Tisana ci spostiamo a Lignano ci sono diverse notizie a Lignano prima notizia riguarda insomma un evento una nuova iniziativa riparte infatti la rassegna un libro un caffè di cosa si tratta si tratta insomma di alcuni principali autori della scena letteraria della nostra regione Friuli, Venezia e Giulia che saranno protagonisti ognuno con la propria novità editoriale a Lignano Riviera proprio davanti al tagliamento fronte tagliamento questa bellissima cornice suggestiva del giardino della ristorante per chi lo conosce alla vecchia finanza dove si citerà come di consueto questo appuntamento settimanale intergato un libro un caffè ok avranno luogo quando se qualcuno è interessato ogni domenica alle ore 11 a inaugurare il cartellone sarà proprio questa domenica Chiara Cecutti con multitasking no grazie da perfetto tuttofare a felice imperfetta e quindi questo è il programma per questa domenica andiamo oltre però rimaniamo sempre a Lignano a Lignano Arena Alpeandria covid free con certi estivi che si svolgeranno in piena sicurezza si tratta del covid box di cui ora vi mostro l'immagine che rappresenta proprio il futuro degli eventi a Lignano che è già presente da un bel po' e che permette di organizzare appunto gli appuntamenti all'insegna del cinema musica ma anche teatro in piena sicurezza proprio a prova di covid-19 l'arena insomma covid free così come anche dichiarato e promosso da music live ffg music live nella città proprio con tutti i vari eventi che abbiamo conosciuto che si chiamano appunto notti in arena bene detto questo ci spostiamo con la cronaca sempre a Lignano un'automobile urta una bicicletta è stata soccorsa una dodicenne come vediamo qui l'incidente è avvenuto nel viale centrale all'altezza dell'incrocio con via Maranto mercoledì alla sera dopo cena intorno alle ore 22 a rimanere ferita in modo lieve fortunatamente è stata una ragazzina di appena 12 anni che è stata urtata da un'auto per cause da accertare è stata prontamente soccorsa dal 118 e intervenire gli agenti e la polizia locale purtroppo non mancano gli incidenti se posso fare una considerazione a Lignano riguardo questi incidenti anche tra pedoni e biciclette veramente ultimamente ne stiamo raccontando diversi c'è qualcosa che non va a questo punto quindi o le persone sono un po' sbadate alle guida o c'è qualcosa che non va veramente perché non è il primo caso di investimento a Lignano anche una donna l'altro giorno è stata investita e non era l'unica del quale abbiamo raccontato in queste settimane bene ragazzi siete con me andiamo con il gazzettino andiamo a vedere cosa succede a Treviso Maxi Focolaio andiamo a vedere come apre il gazzettino adesso vi saluto anche c'è un Maxi Focolaio appunto che preoccupa in un centro migranti dove 133 sono risultati positivi e 300 sono stati messi in isolamento però prima devo fare un abbraccio a Lucillo grazie Roberto per il tuo impegno e per tenerci aggiornati ma Lucillo per me è un piacere nel senso condividere con voi le notizie io comunque lo farei da solo perché comunque ho questa abitudine di apprendere le notizie il mattino di confrontarmi anche con diversi quotidiani invece di farlo da solo lo condivido con voi quindi per me è un piacere farlo se poi tu mi riconosci anche le stelle per me è ancora più piacevole perché servono per avere un feedback una recensione positiva così poi riceviamo un piccolo premio con nuovi servizi da poter integrare da parte di Facebook Deborah buongiorno Roberto da Fiume Veneto buongiorno agli amici della provincia di Porninone ciao Deborah fa caldo fammi sapere quanti gradi è Fiume Veneto siamo già sui 26 nel 7 del mattino abbiamo Adriano Colaviti collegato con noi e Rita Costa buongiorno leggevo del caso di Legionella Daviano non è possibile anche questo sì hai ragione e se riusciamo non so se riesco a trattarlo oggi l'argomento altrimenti lo approfondiamo anche nella giornata di domani ma vi confermo ragazzi anche per quanti non lo sanno e ci seguono fuori dalla provincia di Porninone ci sono diversi casi di Legionella proprio come ha detto la nostra cara amica Rita Costa ringrazio Matteo Malisanni per le 50 stelle molto gentile anche lui io non ho parole per ringraziarvi ma andiamo andiamo veloce con il gazzettino non voglio perdermi dicendo che a Treviso scoppia il contagio tra gli ospiti della ex caserma Serena sono fortunatamente tutti asintomatici ma l'hub è stato blindato blindato per quale motivo perché oltre a essere stati posti in isolamento 133 migranti sono stati posti in isolamento tutti anche compresi quelli risultati negativi quindi vedete che insomma riguarda un vero vero proprio blocco zona rossa definiamola come volete per l'intera ex caserma l'esame di massa dopo la scoperta di un primo caso l'Ulss dice che la situazione è comunque sotto controllo ed è caccia ora ai contatti Rita Costa mi dice che bisogna togliere la patente a queste persone per sempre che vanno con le bici anche loro così non causano danno né a persone né a cose Rita le pene dovrebbero essere veramente più severe perché guida anche in modo spericolato o supera i limiti soprattutto nel centro cittadino come avviene troppo spesso nella località balneare di Lignano bene ma torniamo a noi stavamo dicendo solo un mese fa era già stato eseguito uno screen generale nell'ex caserma Triviso e dove erano emersi due casi positivi ok di bassissima carica in quell'occasione nessuno era risultato contagiato quindi tutti gli amici che ieri sotto al post hanno commentato ma da dove sono sbucati ma non hanno fatto i controlli quando li portano lo fanno apposta per creare disagio per non farci uscire uscire dal virus no ragazzi non è un complotto questo no cioè erano già stati sottoposti e due erano risultati positivi ora invece è cambiato tutto di fatto ma non è che sono venuti meno i io ve lo riporto ma non voglio difendere la caserma non voglio difendere il governo non dipendo nessuno vi dico la realtà dei fatti è avvenuto esattamente così il servizio igiene e sanità pubblica del trevigiano è stato impegnato a ricostruire appunto la storia di ogni migrante per tracciare tutti i suoi contatti avuti nell'ultimo periodo voi dovete sapere che stanno facendo un lavoro in mane il personale dell'azienda sanitaria è impegnato in questo e tanto anche sono già state ad esempio individuate oltre 50 persone che hanno lavorato con i richiedenti asilo infetti perché alcuni di questi 133 positivi non faccio allarmismo riporto la cronaca per come sono i fatti stavano lavorando con altre persone già oltre 50 persone sono state isolate fuori dalla caserma e che erano entrate in contatto con queste positive il covid-19 ok io vi ricordo questo la situazione però ancora lo rassicura il direttore generale dell'azienda sanitaria è sotto controllo quindi no agli allarmismi una volta emersi i primi tre casi positivi dice abbiamo eseguito lo screening generale nell'arco delle 24 ore sottoponendo tutti al tampone i controlli hanno portato a che cosa all'individuazione di 133 persone contagiate la quarantena comunque dice per garanzia di tutti abbiamo deciso di esporla di allargare la quarantena a tutta la struttura quindi un po' come sta accadendo a Udine all'ex caserma Cavarzerani in via Cividale idem sta succedendo proprio a Treviso dove è stata blindata tutti gli spazi non mancano e basta pensare che ora in questo momento è sorvegliata eccola qua l'immagine guardate tutta la caserma nel perimetro è sorvegliata 24 ore dalla polizia dagli agenti della questura trevigiana ok? ok andiamo avanti dopo aver parlato di questa notizia vediamo anche come decide di aprire il gazzettino in edicola oggi ma chiaramente come deciderà di aprire ovviamente apre con questa notizia con quella che abbiamo appena affrontato non a caso il gazzettino del nord est apre con il centro emigrante questi 133 positivi al quali appunto si sta cercando di ricostruire la loro rete sociale perché molti erano in città proprio circolavano liberamente questi infetti ed erano anche al lavoro con altre persone residenti a Treviso il maxifocolaio è scattato è stato quindi è stato visto no? all'ex caserma serena di Treviso 300 sono già in isolamento ne abbiamo raccontato tutto nei dettagli non voglio andare oltre nuovo giro d'Italia si cambia argomento ma viene riportato nella prima pagina del gazzettino 5 tappe che ci saranno proprio interesseranno il nostro meraviglioso nord est abbiamo ancora il Friuli Venezia Giulia che vuole chiudere 8 valichi di confine le regioni del nord hanno messo le mani avanti niente arrivi di migranti la lotta continua tra Zaia e Massimiliano Fedriga che chiedono ancora una volta di avere prevenzione quindi sicurezza sul fatto di smetterla con il flusso dei migranti verso le nostre regioni a nord est Lombardia Veneto Ligure Emilia Romagna non riceveranno profughi visto l'emergenza Covid-19 che stanno continuando ad affrontare così anche il Friuli come riporta il Gazzettino in Edicola non avrà nuovi arrivi dalla Sicilia perché su quel confine sta premendo il flusso migratorio proveniente dalla rotta balcanica in un vertice vi ricordo che è stata chiesta la parziale chiusura di alcuni valichi secondari ad esempio nelle province di Udina e nelle province di Gorizia che risulta nel momento proprio queste porte aperte questi portoni dal quale arrivano questo flusso continuo di persone questo è quello che va a riportare il Gazzettino ma che lo vedremo meglio a pagina 3 abbiamo il provvedimento discoteche troppi rischi sono state rinviate le aperture parliamo anche della discoteca il muretto di Jesolo dove sta per ricevere delle pesanti pesanti sanzioni abbiamo ancora il commento di Luca Zaia rispetto a quello che è accaduto a Treviso cosa dice il governatore del Veneto dice che tutto questo è un gran bel pasticcio e va trattato da zona rossa come io vi ho già detto per gli amici che mi seguono al Friuli nulla di diverso rispetto a quello che succede nella caserma Cavarzeranni approfondimento giuridico della regione l'ordinanza spetterà ora al comune come a Udine Salvini con il sindaco Conte chiediamo i danni allo stato ma il PD dice che è colpa sua quindi vedete lo scaricabarile politico che a me sinceramente non piace perché in questo momento dovremmo essere concentrati nell'affrontare un'emergenza invece questi si passano la palla uno con l'altro Salvini chiede danni allo stato il PD dice che invece è colpa sua vabbè a noi di queste cose più di tanto non interessa ci interessa che risolvano la problematica il bollettino in Veneto quanti contagi abbiamo avuto altri 200 casi in Veneto sfondata quota 20.000 le cose non vanno nel migliore dei modi in Veneto purtroppo il caso Treviso infatti finisce inevitabilmente per andare ad appesantire il bollettino del coronavirus nella regione Veneto nelle ultime 24 ore sono stati registrati ben 200 nuovi casi ma ragazzi no allarmismo su 200 casi 113 sono quelli della caserma trevigiana per cui insomma ci manteniamo nella media anche se con lieve aumento rispetto al solito ma gran parte di questi come avviene in Friuli Venezia Giulia sono contagi che arrivano dall'area dei Balcani o comunque da zone come la Romania e tante altre che abbiamo già citato prima insomma anche mediante il messaggero Veneto che abbiamo letto assieme Sicilia via i trasferimenti in Friuli chiudere otto valichi l'abbiamo detto poco fa l'abbiamo letto proprio nella pagina principale per cui non vado non vado oltre abbiamo la visita ieri di Luca Zaya che è venuta a voi Uganeo e a Schiavonia il tour della rinascita prima volta del governatore ieri dice grazie alla regione andiamo avanti Zaya se il 21 febbraio non fossi andato contro la legge sarebbe esplosa veramente una bomba virale qui abbiamo visto morire le persone questa è la sua dichiarazione eccolo qua poi con una mini pala tra selfie e quant'altro foto Luca Zaya che ieri appunto è andato a visitare le città di Voh e Schiavonia che ora sono libere dal coronavirus salvietti antibatteri teli protettivi le spiagge uccidono il covid vengono riportati insomma l'iniziativa presentata infatti una web app di Venisend per assicurare i turisti ma il calo c'è poco da fare c'è poco da fare anche le città d'arte perdono il 60% dei visitatori Venezia e Firenze arriva l'appello al ministro per insomma questa vera e propria difficoltà che non riguarda solo gli hotel ma proprio le città d'arte compresa Venezia io salto la parte nazionale perché altrimenti non ce la facciamo a chiudere andiamo avanti perché volevo parlarvi anche di quello che è accaduto a Jesolo San Donato di Piave Porto e Guaro come sempre tutti i giorni andiamo a vedere un po' cosa succede a confine tra Friuli e Veneto proprio in quella fascia che si chiama Veneto orientale covid apre il giornale oggi del nord est della Venezia Mestre il gazzettino focolaio in casa di riposo positivi 12 ospiti oltre a 2 operatori finora l'antica scuola dei battuti di Mestre non era stata toccata dell'emergenza e ora che dovremmo essere fuori dall'emergenza purtroppo scoppia il focolaio in casa di riposo c'è preoccupazione dice il gazzettino in comune a Venezia è stato contagiato un emesso 10 persone sono finite in isolamento nel giro di 24 ore ci sono stati ben 32 casi arriva l'accusa di Brugnaro sul giornale tedesco ma è una candidata polemiche per un articolo molto duro che è uscito in Germania la reporter è in lista attenzione qualcuno fa informazione a volte un po' distorta per prendersi i voti come ad esempio questa che in campagna elettorale in Germania è una cosa che non va fatta Jesolo c'è tensione a Jesolo al centro migranti cosa è successo ieri al centro migranti qualcuno che ci segue su nord-est 24 ha visto che cosa abbiamo pubblicato no? è una notizia vera non è una fake news qualcuno a volte ci colpevolizza per dire che facciamo falsa informazione non è falsa questa informazione guardatela c'è c'è stata la protesta dei migranti hanno detto hanno scritto in uno striscione stanno bugiando stiamo chiusi qui per niente vogliono andare in città vogliono uscire dalla caserma non è una fake news la protesta dei migranti a Jesolo è andata in scena ieri mattina non siamo positivi dicono liberateci di cosa stiamo parlando stiamo parlando dei migranti che si trovano nell'ex caserma della Croce Rossa no? proprio che si affaccia sulla spiaggia Jesolana che sono stati posti in quarantena all'interno della caserma non vengono fatti uscire per sicurezza per quale motivo perché su questi 100 migranti 43 sono risultati positivi al coronavirus 43 sono già stati trasferiti mediante un autobus della Croce Rossa nei giorni scorsi a cavargere molti di questi poi altri tre erano ulteriormente risultati positivi ma nonostante questo dicono che secondo loro chiaramente dicono che il comune le sanità le autorità sanitarie stanno bugiando è chiaro che con questo stanno bugiando scritto insomma come potevano volevano dire stanno dicendo falsità qui non c'è covid-19 scrivono i migranti stiamo chiusi qua per niente in realtà non è proprio così io ho visto nei commenti ho letto i commenti che sono arrivati ieri centinaia centinaia di commenti avete inserito su NerdS24 qualcuno diceva e che caspita diciamogli che siamo stati chiusi tre mesi senza lavorare per cui anche se stanno chiusi 14 giorni non è poi così grave vabbè poi giustamente ognuno ha il proprio pensiero io non mi voglio non mi voglio sbilanciare rimango super parties ognuno trae le sue considerazioni quindi passati 15 giorni di quarantena e dopo tre test negativi i richiedenti asilo sono veramente disperati a Jesolo il sindaco dice dopo la scoperta una settimana fa di altri quattro casi scusatemi mi correggo perché io avevo detto tre in realtà una settimana fa e il sindaco riporta che c'erano altri quattro casi oltre ai 43 casi positivi che sono stati già trasferiti a Cavarzere l'isolamento è ripartito da zero ma questo è chiaro perché se loro erano assieme e c'erano dei casi positivi è normale fa parte della legge il fatto che debbano rimanere per 14 giorni in isolamento questo è previsto per tutti è previsto per noi se veniamo a contatto con un Covid-19 positivo è giusto che venga anche per loro vabbè però insomma io volevo solo giustificare un attimo e ricordare alle persone che ci seguono che queste notizie non sono false ma io so che potrebbe sembrare assurdo quello che succede ma sono notizie vere per cui non ci permetteremo mai di pubblicare una cosa che non lo sia arriva intanto la sanzione alla discoteca il muretto di Jesolo non si fa altro che parlare di queste discoteche ammassate le persone tra sabato e domenica tutti senza mascherina non ci stiamo dice il proprietario dice faremo ricorso è stato quindi notificato il verbale ma i gestori ritengono eccessivo il provvedimento colpiti per un episodio a fine serata non so come la pensate voi ma eccessivo o non eccessivo fatto sta che queste immagini che sono girate sono vere sono reali sono immagini di quest'anno e non sono immagini delle precedenti edizioni o delle scorse serate quello che è accaduto tra sabato e domenica alla festa al muretto a Jesolo insomma vedeva centinaia di persone assembrate appiccicate senza mascherine sotto le console e questo chiaramente il questore dice il prefetto va sanzionato non si scappa da lì e così ha fatto cioè così è realmente accaduto però i titolari non ci stanno dicono che il provvedimento è troppo duro è davvero difficile è davvero un periodo molto molto duro anche per questi per queste case il divertimento insomma per le discoteche non se ne esce tax force a San Donato per riaprire le scuole comune personale scolastico stanno riorganizzando i locali nei plessi per garantire distanziamento degli alunni dagli armadi spostati dei corridoi per fare più spazio alle pareti mobili ma tutti torneranno nelle loro classi speriamo che sia così che il 14 suoni la campanella davvero per tutti andiamo oltre a San Donato andiamo a parlare della protesta agli esolo minacce nel super hotel partono adesso ad esempio diverse querele una serata movimentata con l'arrivo della polizia chiamata da un ospite stiamo parlando di una serata finita nel modo tumultuoso in un super hotel della città con tanto di intervento delle forze dell'ordine ancora abbiamo Torre che sfida va verso la sfida 2 del centrodestra per Mazzarotto e ci spostiamo quindi a Torre di Mosto l'ex assessore indicato come lo sfidante che dovrà anche riconquistare il comune il sindaco Geretto non ha ancora sciolto le riserve sulla sua candidatura quindi sarà Maurizio Mazzarotto vediamo dov'è eccolo qua Maurizio sulla foto di sinistra che io vi sto segnalando lui è Maurizio Mazzarotto il candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni comunali la notifica verrà ufficializzata in una conferenza stampa che di cui sicuramente vi riporteremo viene riportato un trafiletto anche riguardo la ragazza di cui abbiamo parlato per chi ci ha seguito nelle precedenti edizioni abusata a Jesolo una violenza sessuale una bimba di 15 anni è arrivata la conferma da parte purtroppo del personale medico la conferma arriva dai medici mentre sulla vicenda gli inquirenti stanno mantenendo il più stretto riservo anche per la tutela dei protagonisti entrambi minorenni gli esami medici avrebbero confermato l'avvenuto atto sessuale una ragazza abusata all'interno di un appartamento in una festa con amici dove appunto avevano trascorso la serata tra alcolici vodka vino e birra questo è quello che hanno riportato i carabinieri nel loro comunicato stampa e io vi riporto così come loro ce l'hanno fatto sapere uccisa nel silenzio andiamo a portoguaro l'ira del parroco solo una ventina le persone all'addio della 59enne di cui parliamo da giorni e giorni che è stata uccisa in via della croce rossa a portoguaro erano assenti anche i vicini praticamente quasi nessuno presente a questo esempio una ventina di persone pochissime donna andrea ruzza ne ha detto dove è la comunità bisognava che marcella morisse così perché scoprissimo il suo nome quindi insomma un po' una storia anche da un punto di vista sociale una persona dimenticata di fatto bisognava che marcella morisse dice proprio così il sacerdote ieri durante le esecue è un'omelia molto dura quella che ha tenuto il prete ieri molto diretta quella di donna andrea ruzza nel prete che ieri ha celebrato nella chiesa della beata maria vergine di portoguaro il funerale di marcella boraso la 59enne di cui parliamo da diverso tempo che è stata barbaramente uccisa nel suo appartamento dove l'indagato è un 23enne marocchino che è stato ormai fermato sottoposto quindi all'interrogatorio dove lui si sta dimostrando purtroppo ancora innocente quindi ancora non siamo venuti a capo di questo bruttissimo omicidio che ha visto portoguaro protagonista nella cronaca del gazzettino in questi giorni abbiamo invece belle notizie che arrivano a San Michele cambiamo argomento da Pozzi a San Mauro senza paura perché? perché cresce la rete delle piste ciclabili una cifra che sale a circa un milione di euro compresa la nuova illuminazione pubblica l'abbiamo riportato ieri nella nostra testata oggi fa piacere che anche il gazzettino ne dia conferma quindi ciclisti e pedoni più sicuri da Pozzi a San Mauro nel comune di San Michele al tagliamento è stato infatti confermato il progetto della nuova pista ciclopedonale che sarà anche nuova illuminata sulla strada provinciale 75 tra le due località un percorso di circa oltre un chilometro che mette in piena sicurezza un tratto di strada molto molto pericoloso ok vengo con i vostri commenti e messaggi nel caso in cui ne abbiate vi do il buongiorno sono le 7.21 del mattino ragazzi tutto ok come andiamo? io ringrazio ancora una volta i tanti messaggi e commenti che sono arrivati non riuscirò sicuramente a leggerli tutti ma voglio ricordare a quanti sono collegati con noi che noi stiamo aspettando oggi è giornata di nuova ordinanza ad esempio in Friuli Venezia Giulia per cui avremo diverse novità con le quali oggi ho aperto proprio la rassegna stampa so che qualcuno magari non era collegato alle 6.30 quando ne ho parlato faccio un brevissimo riepilogo per poi salutare ancora una volta a tutti quindi concerti show dal vivo il pubblico potrà tornare di cosa stiamo parlando stiamo parlando della nuova ordinanza che oggi pubblicheremo tra le ore 18 e le ore 19 collegatevi su nordest24.it perché avrete in anteprima subito subito il pdf per sicuramente per le persone del settore che vogliono essere informate dire ma come funziona è vero che tolgono il limite degli spettatori è vero che ci potrà essere il pubblico è vero è vero è vero ma insomma tutte le conferme le avrete più tardi quando andrò a pubblicarvi appena Federica firma io vi giro il come di consueto faccio vi giro il pdf ok quindi oggi ci sarà la firma della nuova ordinanza che sarà valida dall'1 al dall'1 al 15 agosto se non sbaglio no scusa tutto il mese dall'1 al 31 di agosto si tratta di una nuova ordinanza di cui si parla di concerti e spettacoli dal vivo che non avranno i limiti che era stato imposto dalle ordinanze di giugno riguardo agli spettatori ok probabilmente anche alle partite con il pubblico basterà quindi una sedia vuota ogni due oppure un metro di distanza via libera i match non professionistici con la presenza di tifosi sulle tribune quindi andando a riassumere cancellazione di vincoli quelli che avevamo già visto già studiato che erano quelle dalle 200 persone all'interno e 1000 all'esterno quindi spettacoli dal vivo teatri arene che potranno avere il pollice in su ok ritorno del pubblico delle manifestazioni sportive dilettantistiche e si sta lavorando quindi rimaniamo in attesa di novità in questo caso under construction ovvero si lavora per riaprire al pubblico anche gli stadi dove le persone potranno tornare allo stadio ma vedremo insomma queste sono le proposte questa è un po' la bozza quello che è trapelato ieri dal palazzo della regione insomma di quanto potrebbe oggi essere firmato da Fedriga a meno che non ci siano colpi di scena nella giornata di oggi con aumento dei contagi o altro ci auguriamo di no ma se tutto va bene queste dovrebbero essere le proposte che oggi pomeriggio andremo a pubblicare appena ci sarà la firma del nostro caro presidente ok ragazzi buongiorno ancora una volta quanti sono con noi questa è la rassegna stampa che noi iniziamo ogni mattina alle 6.30 del mattino Lorenzo del Negro mi dice buongiorno Roberto Damaiano e Ambra buongiorno mitico Roby ciao Ambra buona giornata un abbraccio anche a te Adriano come si fa a controllare il distanziamento in discoteca e un controsenso hai perfettamente ragione impossibile controllarlo ragazzi chiudo vi abbraccio vi auguro una buona giornata un bacio a tutti ciao ciao